In Abruzzo il 14 e 15 maggio prossimi 31 comuni andranno al voto e sono oltre 160.000 cittadini chiamati a rinnovare le proprie amministrazioni. Teramo è il centro più grande con 46.092 elettori e qui sono 3 i candidati alla carica di sindaco, con un totale di 15 liste e di 464 aspiranti consiglieri comunali. Nel 2018 furono 7 invece i candidati alla carica di sindaco con 15 liste. L'uscente Gian Guido D'Alberto se la vedrà con Maria Cristina Marroni, docente, e con Carlo Antonetti, avvocato. Il centrodestra, dopo un lungo travaglio, ha chiuso qualche settimana fa su Antonetti, lanciato però da un movimento civico. Ex presidente del Teramo Basket, l'avvocato ha accettato la sfida con entusiasmo ed è sostenuto oltre che dal blocco dei partiti di centrodestra anche da liste civiche. Punta su ricostruzione post-sisma, rilancio del centro storico e sicurezza delle scuole. Ha accettato la sfida anche Maria Cristina Marroni, ex vice sindaca di D'Alberto, nei primi anni del mandato, che dalla sua ha l'appoggio di due liste civiche e di Italia Viva, ma che inizialmente aveva tentato un dialogo col centrodestra. La professoressa, nell'ultimo scampolo di amministrazione, ha sostenuto l'opposizione e ora vuole un netto cambio di rotta, con proposte innovative volte a superare quello che ha definito il non fatto dell'attuale governo comunale. Il sindaco D'Alberto, sostenuto da PD, Movimento 5 Stelle e Civiche, ha riproposto con sé tutta la squadra uscente e ha aperto la campagna in anticipo rispetto alla presentazione dei simboli e delle liste, con l'evento di debutto della prima formazione che lo supporta. punta sui risultati raggiunti, sulla programmazione avviata, sui fondi da spendere e sulla compattezza del gruppo. Se nessun candidato al primo turno dovesse ottenere la maggioranza assoluta, si tornerà alle urne il 28 e 29 maggio per scegliere uno degli aspiranti sindaci di Teramo. Grazie.